Pochi tamponi e pochissimi positivi nel bollettino Covid odierno. Sono appena 5 i casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore su 885 tamponi processati, 559 molecolari e 326 antigenici per un tasso di positività che sfiora lo 0,6%. Fascia giovane è quella dei 5 positivi, la cui età va da 2 a 38 anni. Il numero complessivo dei casi dall'inizio dell'emergenza è 74.469, tre casi fanno riferimento alla provincia di Pescara, uno alla provincia di Teramo, uno di fuori regione. Per un caso è in corso l'accertamento della provenienza, meno uno per riallineamento per la provincia aquilana, mentre sono invariati i casi della provincia di Chieti. Resta fermo a 2.502 il numero delle persone decedute positive al Covid, non essendoci nuovi casi nelle ultime 24 ore. Torna a salire, comunque di appena due unità, il dato dei pazienti ricoverati in via ordinaria. Ora sono 71. Resta invariato quello dei ricoveri in terapia intensiva, sono sempre quattro e continuano a non registrarsi nuovi ingressi. Scendono di 58 unità i pazienti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, sono 1.398. 61 i pazienti dimessi guariti, un dato che porta quello complessivo da inizio emergenza a 70.494. Scendono a 1.473 gli attualmente positivi in Abruzzo, meno 56 rispetto a ieri.